Questo cittadini è quello che vediamo, pensate quello che il fiume ha ancora nel suo letto, quello che purtroppo non riusciamo a vedere. Ne dobbiamo parlare perché più se ne parla e più sarà due volte bene, per tutti. Qui posso paragonare a alberi di Natale spenti perché anziché vedere qualcosa di speciale vediamo un po' di tristezza, anche se non è proprio così. Però insomma facciamoci forza e cerchiamo di rimediare gli errori del passato. I paesaggi sono non meravigliosi ma stupendi perché abbiamo un habitat, abbiamo un qualcosa che è veramente speciale.